Ciao, sono lieto di rivedervi, cari tinzi. Ehi, sono lieto di rivedervi. Rayman, che piacere vederti di nuovo sano e salvo. Grazie, ti fa piacere. Finora sei stato più veloce dei pirati, ma questa volta sarà più difficile. Davvero, sarà più difficile. Accidenti. Hanno bloccato la porta con molte e me la chiudiamo. Accidenti. Ci vorranno 400 loom per aprirla. Fanno plastico, hai raccolto loom a sufficienza per passare. Che vi dicevo ragazzi, avete visto? Ho raccolto loom a sufficienza per passare, ce ne volevano 400. Hai davvero del talento, sono sicuro che ce la farai. A trovare i 600 loom che ti servono per la prossima porta. Li troverò ai 600 loom. Ma devo avvisarti, ti attende una terribile prova. La guardia della prossima maschera è impazzita. Davvero? L'esplosione del cuore del mondo l'ha resa ingovernabile. Lee ha cercato di ragionare con lui ma senza successo. Aspettati una lotta terribile. Buona fortuna.